Dal 1994 al 1997 frequenta vari stages di recitazione, dopo aver iniziato a lavorare in teatro, sia come attore che come assistente alla regia. Nel 1998 gira la prima stagione del commissario Montalbano, andata in onda nel 1999 su Rai 1, in cui è l'agente Gallo, ruolo che interpreta anche l'anno successivo. Nella seconda stagione, successivamente continua ad alternare il lavoro di attore con quello di assistente alla regia. Inoltre gira vari spot pubblicitari e nel 1999 è protagonista del videoclip E che cosa penserai di? Medipino Daniele, tra i suoi lavori televisivi. Ricordiamo, la serie TV L'Ispettore Giusti. 1999, reggia di Sergio Martino, le sopopera a un posto al sole e cento vetrine. Le miniserie TV Sant'Antonio da Padova. 2002, reggia di Umberto Marino, D'ogni occhi l'angelo dei bimbi. 2004, reggia di Cinzia T.H. Torrini. È il film TV La notte breve. 2006, reggia di Camilla Costanzo e Alessio Cremonini. Per il cinema ha partecipato al film Besame e Mucio. 1999, reggia di Maurizio Ponzi, ed è stato protagonista di alcuni cortometraggi. Tra cui, Il regalo di Natale. 2002, reggia di Daniele De Plano. Vincitore di molti concorsi per cortometraggi e finalista ai David di Donatello 2003. Come miglior cortometraggio.